Sabato 28 novembre appuntamento con la 19esima giornata della colletta alimentare. Tanti anche quest'anno i supermercati della città di Tolentino che hanno scelto di aderire all'iniziativa. Ne parliamo con Cristiano Cesselli del centro di solidarietà Pier Giorgio Frassati e referente appunto per la colletta alimentare. È un evento che oramai, come appunto dicevi, è 19 anni dal 97 e ogni anno stiamo assistendo sempre ad una crescendo sia di volontari che di donatori perché il bisogno sta sempre aumentando. Quello che vediamo però che aumenta è proprio il bisogno delle persone non solo di mangiare ma proprio di essere accompagnati. La scelta dei prodotti, gesti consueti, magari chiedi attenzione per te e per le persone che ami. Una volta all'anno puoi farla anche per le persone più bisognose. Scegli tra i cibi a lunga conservazione e consigliati e dono gli evolutari del Banco Alimentare. Sostieni il Banco Alimentare per raccogliere cibo per i poveri, invia subito un SMS o chiama la rete fissa il 45502. Un po' accompagnando i fatti tristi accaduti a Parigi e tutto quello che poi ne viene stanno creando, comunque si percepisce, si sente nell'aria proprio un malcontento generale. Quello che è il nostro tentativo è proprio invece di risvegliare una positività e una condivisione nell'apertura all'altro. Perché siamo fermamente convinti che solo una educazione a questo livello nell'attenzione della persona, nell'accorgersi dell'altro e nell'accompagnarci può essere l'unico deterrente per evitare il ripetersi di questi fatti, purtroppo brutti, brutti proprio perché non portano alla vita ma portano ad altro. Avete scelto di coinvolgere ovviamente oltre agli esercizi commerciali anche le scuole della città? Certamente. La disponibilità delle presidi che ringrazio proprio infinitamente perché vedo non solo dalle presidi ma anche dei vari consigli di istituto un'attenzione proprio ad inserire in questo tipo di programma all'interno del POF, del piano dell'offerta formativa. Tutti tra i plessi, quindi il Don Bosco, la Lucatelli e il Francesco Filelfo aderiscono a questa iniziativa. Anche quest'anno saranno 80 questi ragazzi che passeranno i turni di due ore o comunque nella mattinata comprensiva per dare il servizio di volontariato. Ma l'attività del Banco Alimentare non si ferma con questa iniziativa? Prosegue durante tutto l'anno? Qualche dato? Ma allora diciamo che a livello nazionale i dati sono più di un milione e cinquecento di persone assistite oltre diverse strutture caritative in tutta Italia. Quello che però la domanda ridondante che comunque ultimamente ci fanno sempre le persone che donano è ma questa roba dove va? Ebbene, qui a Tolentino il centro di solidarietà per Giorgio Frassati, il CERMIT, sono due associazioni che sono accreditate o chiamate alla struttura Banco Alimentare e quindi la dinamica è che una volta al mese si va a ritirare i prodotti alimentari al magazzino di Porto d'Ascoli e poi vengono ridistribuiti a tutte le persone che sono in stato di bisogno. Ovviamente tutta l'attività è un'attività, la scelta dei prodotti, gesti consueti, ma carichi di attenzione per te e per le persone che ami. Una volta all'anno puoi farla anche per le persone più bisognose. Scegli tra i cibi a lunga conservazione consigliati e donali ai volontari del Banco Alimentare. Sabato 28 novembre partecipa alla colletta alimentare promossa dalla Fondazione. E' innanzitutto voi che ci permettete comunque sempre di fare questa promozione, questa sensibilizzazione anche delle persone sia per i volontari che per chi vorrà donare il 28 novembre prossimo. Ringraziamo ovviamente, come dicevo prima, tutte le istituzioni scolastiche. Il comune che nonostante le difficoltà, il comune nello specifico i servizi sociali, che anche quest'anno nonostante le fatiche e le difficoltà che comunque a livello economico si fanno sentire, stiamo cercando di organizzare per il servizio logistico. Perché immaginate muovere 80 ragazzi nella mattinata nel tempo di più o meno un quarto d'ora e c'è bisogno di un'organizzazione abbastanza impegnativa. E questo ecco, il comune ci ha sempre accompagnato, ci auguriamo e ospichiamo che anche quest'anno lo possa fare attraverso l'azienda, la SSM. E poi nel pomeriggio ovviamente sarà aperto a chiunque si sente questo desiderio di voler condividere anche nel prestare la propria opera, perché è una forma di carità non tanto e solo chi riceve, ma anche proprio chi dona, chi dona sia cibo ma anche tempo a disposizione. Fa crescere, fa crescere il cuore, fa crescere la persona.